Ciao a tutti, oggi abbiamo visto un passo incrociato mentre ci spingiamo. Mentre ci spingiamo non stiamo pattinando normalmente, ma siamo in generale più bassi per darci la spinta. Il passo incrociato quindi, così, deve venire un po' più ampio e il piede che rimane a terra, mi deve far saltare questo, mi deve far saltare però in avanti, quindi mi metto lateralmente, viene, questo, in avanti. L'obiettivo è anche cercare, ad esempio, di immaginare che ci sia un marciapiede qui, io sto correndo, non è che mi fermo e poi salgo così, ma invece marciapiede, salto e prendo. Ok, vi faccio vedere un piccolo esempio. E adesso lo fanno vedere i miei allievi del corso del Pincio. vai! grazie a tutti.